Giovani benvenuti, mi chiamo Michele e oggi vi mostrerò come decalcificare la vostra macchinetta Lavazza a modo mio, modello Jolie Plus. Seguitemi. Prima di tutto controlliamo che sia vuoto. Dopo riempiamo il serbatoio con questo prodotto. Andiamo a mettere 250 ml di questo e 250 ml d'acqua. E lasciamo agire il prodotto a circa una decina di minuti. Inseriamo la vaschetta nel suo alloggiamento. Perfetto. Passati dieci minuti andiamo ad accendere la nostra macchinetta. Attendiamo che si blocca la luce a led. Nel frattempo togliamo la vasetta sotto, solo questa qua, dove appoggiamo la tazza. E ci andiamo ad usare un bicchiere. Una volta pronto andiamo a prendere questo tasto, dove farà uscire il caffè più lungo, quindi più acqua. Si ferma in automatico, aspettiamo dieci secondi e dopodiché ripetiamo il ciclo fino a quando abbiamo finito l'acqua del contenitore. Perfetto. Una volta terminato l'acqua, sciacquate prima il contenitore. Una volta sciacquato lo riempite un'altra volta, questa volta solo acqua. Perfetto. E andiamo a sfruttarla totalmente per l'ultima volta. Quindi sempre avviate l'erogatore dell'acqua. Quando ha finito aspettate una decina di secondi e così andate a ciclo. Finché non finisce l'acqua. Una volta che è finito, anche per la seconda volta l'acqua, andiamo a riempire e faremo il primo caffè che è solo di prova. Solo. Perfetto. Poggia tazzo. E' un bicchiere, dove andiamo a buttare il primo caffè. Et voilà. Fate uscire il più caffè insieme in maniera più abbondante. Perfetto. E adesso la macchinetta è pronta. Andiamo a inserirci il caffè. Et voilà. Dopo una bella decalcificazione. Vedete che caffè? Adesso vi potete gustare un buonissimo caffè. Mettete like, condividete il video e soprattutto seguitemi. E' un buonissimo caffè. 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 E' un buonissimo caffè.